La Guardia di Finanza di Teramo ha sequestrato 3.746.636 giocattoli ed accessori con marcatura CE contraffatta, ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti. E' questo il bilancio di una mirata attività investigativa condotta dai militari della tenenza di Roseto degli Abruzzi che, all'esito di un controllo eseguito nei confronti di un esercizio commerciale gestito da un imprenditore cinese, hanno riscontrato la messa in vendita di giocattoli e accessori con marcatura CE contraffatta. I controlli estesi all'importatore e al distributore hanno condotto i finanzieri rosetani in provincia di Napoli, dove nei comuni di Mugnano e Casandrino sono stati eseguiti i decreti di perquisizione presso due depositi, dove sono state rinvenute e sottoposte a sequestro penale prodotti irregolari e merci pronte per la commercializzazione. Due irresponsabili segnalati all'autorità giudiziaria per introduzione nello Stato e commercio di prodotti consegni falsi.